BOOM! E ciao ragazzi, benvenuti qui a questo nuovo video e bentornati sull'ultimo episodio di Pokémon Rosso Fuoco. Oggi siamo nell'ultimo episodio, anche nell'episodio Legend Hunter, dove ci andremo a catturare Mewtwo, l'ultima leggenda rimasta da catturare. Siamo messi bene 5 evokeball, 25 megaball e 112 ultraball, le quali dovrebbero bastarsi, si spera, per catturarlo. Siamo qui a Celestopoli, siamo già davanti alla grotta celeste, quindi siamo pronti per andare immediatamente dentro. Andiamo da Mewtwo. Non sarà facile arrivare da Mewtwo. Iniziamo ad usare Serpy, ovviamente la grotta non è che me la ricordo poi così tanto, sa? Proviamo a salire già qui. È tutta qui la strada che dobbiamo trovare, il problema è che vatti a ricordare quale minca, eh? Qui ovviamente ci sono un sacco di Pokémon fortissimi, ragazzi. Guardate qua, Cadabro a livello 55, è un mostro. Non si scappa. Ottimo. Ultraball. Un'altra ultraball che si aggiunge al nostro zaino. Un ultraball in più magari per poter riuscire a prendermi tu. Allora, questa dovrebbe essere, insomma, l'ultima scala per farci arrivare lì, mi auguro. Vediamo se è di qua che dobbiamo andare. Non mi pare. Quindi allora, tecnicamente, bisogna fare così. Ma non di qua. Dobbiamo andare così. Ok, spacchiamo questa roccia. Non è qua, ma what the fuck? Non è di qua. Dove cazzo devo andare? Venito l'aspetto del repellente. Ok, forse ci siamo. Ok, forse ci siamo. Signori, eccolo qui. Ello, mutuo, ello, 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 ello. Siamo arrivati, siamo arrivati. Dobbiamo solo raggiungerlo. Dobbiamo solo raggiungerlo. Qui no. Usiamo il repellente. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta a raggiungere. Credibilmente. Di qua. Andiamo su. Eccoci qua, signori. Davanti al mutuo. Io intanto salvo. Perché tutto il suo giro che ho fatto della Madonna, ragà, non voglio rifare un'altra volta. Ricontrolliamo un attimo i vadaman come sono messi. Ci siamo. Ci siamo, speriamo. Signori, è arrivato il momento. Di catturare il mutuo. Eccolo qua. Pronti. Mi due. A livello 70. A livello 70. Lui c'ha pure ripresa. C'ha mortacci suo. Lui c'ha anche ripresa. Salva guardia. Sì, 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 salvate, salvate. Poi gliel'amo. Lui c'ha pure ripresa. Ripeto, c'ha 20 pp. Quindi cerchiamo di tenere il conto. Cerchiamo. Psichico. Porca, troia. Ma è psichico. Lui c'ha 10. Eh, però Venusaur ce saluta. Venusaur ce saluta. Venusaur ce saluta. Ce saluzia. Venusaur ci saluzia. Venusaur ci saluzia. Lui l'utilizzo come te. E Tentei ci saluta forse. Non è vero. Ok, ottimo. Bene. Liberato un po' poco. Ragazzi, io ci provo a buttare una ultra bolle così. Tanto per. Tanto per. Tanto per. Non fa neanche uno tanto. Uno. Due. Oh, cap*****o. Ok, ok. Questo si è ripresa. Ed è la prima. Grande. Così sì che ti mette veramente la gioia, amico. Grazie. Grazie, grazie. 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 Tanto adesso, regà, la roba ci serve. Tanto adesso la roba, ragazzi, ci serve. Solo ed esclusivamente. Qui. Quindi. Cerchiamo di rifarti sempre. Poi, purtroppo abbiamo Kingleral28 che non ci sarà mai di aiuto, però. Ciao, Ventei. Grazie di averci aiutato. Quel poco che ci hai aiutato. Ragazzi, io ci provo a buttare un'altra ultra bolle. Che sta abbastanza, abbastanza stanco. Sta abbastanza stanco. Mi c'ho pure il sapore, regà, lo sai? Perché volo, volo ti distrugge. Volo. Porco Dio! Porco schifo! Porco schifo! Porco, porco! Fa la seconda ultra bolle. Ma che mi stai a dire? Madonna mia! No, ma che mi stai a dire? Ma che te stai a inventare? Ma che te stai a inventare? Ma che davvero, davvero? Uno? Eh, vabbè, ormai no. Madonna mia, ci ho quasi creduto, regà. Ci ho quasi creduto. Grande l'ha addormentato. Ottimo. Ottimo. Non possiamo più attaccarlo, ragazzi. Non possiamo più attaccarlo per non rischiare di fare la fine che ha fatto Oh Oh. Ok, è morto. È morto male, male, male. È morto male, male, male. Come on. Come on. Come on. Porco schifo! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, dai, ancora Ultra Ball, ancora Ultra Ball. Dai, dai, la quinta Ultra Ball. Forza, forza, forza. Va bene, va bene. Il Pokémon si è liberato, si è svegliato. Sì, ciao, ciao, per lo so. È stato un piacere riaverti qui tra noi. Vai, Raichu, vai, Raichu. Devo curare i Pokémon, regà, perché sennò non ce la facciamo. Allora, sto a pensare a catturarlo, però il problema è che questo me li staffa fuori tutti quanti, eh. Allora, rinveniamo in te. Grazie. È ripresa. Va bene. Va bene. Va bene. Allora, prima o poi li finiresti, perché se ne vantaggi ci vuole. Comunque, anche il psichico, penso che tra un po' lo finisca, se non lo ha già finito, perché non ho perso tutto. Comunque, sono solo dieci mosse. Penso che già ce l'ha fatto un po' di volte, quindi... A noi qui è tutta una questione di nervi, è tutta una questione di andarcene. Io faccio le cacce di assorbimento, così mi ricarico qualmente. E intanto gli leviamo qualcosa a lui. Ok, vedi, recuperiamo noi il ps. Non è male. Si può usare ancora. Sperando che lui comunque non faccia il represo, non ci annulli tutto. Il che è probabile. Va bene. Ok. Regà, allora, dobbiamo cercare addormentare. Attaccami. Salvaguardia non lo attaccherà mai adesso. Eh, non lo attaccherà mai adesso. Però, se io faccio adesso, buttiamoci una Ultra Ball. Vediamo. Vediamo. Uno. Ma come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Come si fa? Allora, io ne approfitto. Intanto mi vuole i Pokémon, no? A questo punto, no? Va bene come stavano essi. Vabbè, siamo messi abbastanza bene. Dai, non serve. Ancora Ultra Ball. No! No! E un'altra volta no! Un'altra volta non me lo vuoi fare! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Psichico! Ciao, l'erosauro! Porco, schifo! Ma dai! Un'altra volta me l'ho fatto! Vai con l'Oltra Ball, regà! Sta veramente a poco di vita! Stiamo qua, stiamo andando avanti all'infinito, regà! Però il problema è che non ce la si fa! Non ce la si fa! Non ce la si fa! Ormai non lo posso neanche più attaccare! Ma ci sono andato vicinissimo perché mi ha fatto cascata, mi ha fatto un brutto colpo! Vai! Uno! Due! No! Dai! YouTube, please! Please! Vieni YouTube, please! Psichico dovrebbe averli finiti e credo che abbia finito anche le riprese, perché non lo sta a fare più, però non ne so sicuro! C'è andato a solo le salvaguardie, non sto a fare neanche più comete, quindi io credo che ormai tocca andare solo in feed di Ultra Ball. Uno! Due! No! Cacchio! Ripresa! No, ripresa ce l'ho ancora! E mi stava inculando! Va bene però, dai! Il problema è che sto a finire anche io le mosse, vedi? Non c'ho quasi più un cavolo! Scontro! Ha finito le mosse, raga! Ha finito le mosse! E' un problema però, è un problema, perché questo va a finire che si ammazza da solo! Perché con scontro subisce il contraccolpo! Si che il contraccolpo è pochissimo, però è un problema raga, potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema. No! Raga, lo sto a piegare con l'unica bolla! Madonna mia, ma dai, dai, please! Ma please! Ma aiutami, please! Dai, non ci credo! Un'altra volta, non ci credo! Basta, dai, non me vuoi, va sempre così, cazza, rollo! Ma dai, ma dai, ma dai! Ma dai, ma veramente, oh! Ma veramente, oh! Ma veramente, oh! Ma basta! Ma basta! Ma se sta ammazzando da solo! Venusaura, attaccalo! Sì! 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 Sì, l'ho preso! Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Dopo, 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 50 minuti di agonia interminabile! Oddio! No! No! Ficci di bene! Qua si chiamato Elba! Signori! Salva! Fermo! 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 Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo catturato! Mio tu! Fone di fuga! 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 Voglio andare a vederlo! Signori! Incredibile! Ce l'abbiamo fatta! Tanta agonia! Tanta agonia! Ma finalmente ci siamo riusciti! Eravamo arrivati allo stremo! Lui stava per uccidersi da solo! Perché era rimasto solo scontro! Avete visto con quanti piersi era rimasto? Ma ce l'abbiamo fatta! Eccoli qua, signori! I cinque leggendari! I sei leggendari che abbiamo catturato! Moltres Arzapdos Articuno Lugia Mewtwo Ed Entei Signori! Ci siamo riusciti! Abbiamo catturato tutti i leggendari! O meglio quasi tutti! Perché purtroppo l'abbiamo fatto fuori! Ma comunque! Signori! La serie su Pokémon Rosso Fuoco si può concludere! Qui! Io vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto! Vi ringrazio per chi di voi ha seguito questa serie sul mio canale! Siamo riusciti ad aggiungere alla fine, dopo tanti episodi, dopo mi pare 26, 26 o 27 episodi abbiamo concluso anche questa serie! Quindi! Ora! Ci sarà un'altra serie a seguire! Questa di Pokémon Rosso Fuoco! Noi ci vediamo ad un prossimo video e ad una prossima serie! Vi ringrazio a tutti! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.